Musica Cari sorelle, cari fratelli, vorrei dirvi anche stamattina una parola che prende le mosse dal saluto di ieri a Sor Antonietta. Le ho detto, ti auguro di prepararti bene alla tua morte, le ho detto, vi ricordate? Lei che è una donna di fede intelligente, non si è mica meravigliata, anzi. Beh, insomma, io stanotte ho ricevuto la telefonata e è morto il mio carissimo parrucchiano, più giovane di me, che tre giorni fa, mercoledì, mi telefoni e dice Don Ambrogio, entro per l'ennesima volta in ospedale, mi devono operare alla orta e la terza, quarta operazione mi dice, guarda, devo celebrare la messa adesso alle sette, ti metto nel calice. E Maria stanotte questa telefonata, no? E allora, cari amici, io vorrei dirvi, per me, voi non toccate ferro, che ormai tocchiamo la nostra testa e tocchiamo legno. E allora io provo qualche volta, e non solo adesso che sono vecchio, ma anche quando ero più giovane, questa ginnastica spirituale. Davanti al tabernacolo chiudo gli occhi e provo a pensare come sarà la mia morte. e mi sono scoperto così superbo, così vanitoso, mi sono detto, chissà che è funerale, se muori giovane. Ho detto, bravo o stupido. Gli altri sono lì a farti il funerale e tu sei lì nella casa da... Mamma mia, la vanità mia, la superbia mia non ha confini. E poi dicevo, e quando sarò morto cosa sarà? Beh, anzitutto, tutte le cose che ci sono in casa mia e che io tratto con riguardo, dai libri a una roba o l'altra, chiameranno la spazzatura e diranno, via, via, via. Per lo zio erano importanti queste cianfrusaglie. Allora non interesseranno, interesseranno eventualmente i miei soldi, che io non lascerò a loro, quei pochi che ho li lascerò al seminario, dove sono diventato prete. Ma, e poi? E poi entrerai al cospetto di Gesù, perché la fede e il catechismo mi dicono che sarò giudicato subito dopo la morte. E allora sarà presente Gesù, il giudice, come nella Cappella Sistina, sarà presente il diavolo, che è il mio accusatore, sarà presente per fortuna anche la Madonna. E allora il diavolo, come mi vedrà, dirà, oh, Ambrogio caro, vieni amico mio, ti sei matto? Ambrogio caro, ma come, fai finta di non conoscermi? E nella vita, quante volte hai fatto tutti i peccati? Quante volte ti sei schierato come, ma io ero scemo, non capivo niente, poi mi sono confessato. Poi mi girerò verso la Madonna e dirà, tu, Advocata nostra, sì, quella che mi difende. Allora lei dirà al diavolo, giù le mani dall'Ambrogio, è mio, è consacrato a me. E io con gratitudine la guarderò e dirò, grazie tutte le volte, Madonna, che ti ho pregato, le Ave Marie prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, mi prenderà, mi porterà davanti a Gesù, Gesù mi squadrerà bene, già, eh, c'hai anche tu le due, vabbè, però ti presenta Maria, madre mia. E allora vieni qui, vieni qui, poveretto, vieni qui. Amici, questa non è, sì, è fantasia, ma io vi suggerisco, se volete, suore o non suore, trovate, mica tutti i giorni, magari una volta all'anno, di dedicarvi un quarto d'ora a pensare alla tua morte, alla tua, come sarà intorno a te, come sarà, ma vi assicuro, amici, che è una bellissima ginnastica, oltretutto è vera, eh. a pensare alla tua vita,